È trascorso un mese esatto dalla morte di Filippo Gagliardi, ma il suo ricordo è vivo nel cuore di chi l'ha conosciuto e gli ha voluto bene, come gli amici dell'oratorio San Vittore, dove Pippo a lungo è stato impegnato come animatore ed educatore. Nei giorni scorsi festa dell'oratorio, durante la quale è stato ricordato il giovane scomparso, con la partecipazione della famiglia. Il slogan dell'iniziativa, andate controcorrente, abbiate il coraggio di essere felici, tratto da una celebre invocazione di Papa Francesco, che Filippo ha testimoniato fino all'ultimo dei suoi giorni. Diverse le iniziative che si sono protratte per più giorni, con l'apertura del banco di beneficenza, il pranzo per gli anziani, la Santa Messa della Domenica, il mandato agli animatori e ancora momenti di gioco. È stata la prima festa dell'oratorio per il nuovo prevosto Don Costantino Manea. Questa festa davvero mi riempie il cuore di grande gioia, di grande stimolo, perché nella parrocchia la presenza del circolo è davvero determinante. Anzi, vorrei dire che le consolazioni che ho avuto finora, conoscendo Intra, in modo particolare davvero mi vengono dall'attività del circolo, un'attività molto intensa che coinvolge molti animatori. Ed un momento di gioia in più per San Vittore è stato nei giorni scorsi la nascita del figlio di Pippo, il segno più tangibile della speranza nel futuro.